Cultura. Cultura ha la nostra propria identità. Se mi puoi qualche tempo andare con noi, tutta come una persona, a salutare l'altro, in maniera che è la maggior parte di educare e emozionare oggi, e per me è una differenza enorme. Uno dei nostri contabai, buon dia, buon tardi, buon nocci, quella, oggi potrei fare un negozio, non c'è la nostra cultura. Cultura è importante perché la cultura è il desarrollo di un paese, senza cultura come non c'è un paese. Quindi, non c'è nulla, non c'è nulla per cominciare con la nostra cultura? Naturalmente, mi hai cooperato e mi hai lavorato all the way con la cultura. Mi messo come un artista e mi hai fatto di chenere che ti puoi appocare, e che ti puoi appogare, che ti puoi appogare. E quindi, se tu puoi appogare la cultura, mi ti puoi appogare all the way. Quindi, se tu puoi appogare, non ti puoi appogare.